SETTE GOLD 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 Poco fa citavo anche i fiori che è una produzione che man mano si è affermata nel nostro territorio. Questi settori sono un po' in crisi per le difficoltà che sono venute dalle legislazioni nazionali e regionali per la mancanza di provvedenze, per le tante difficoltà che chiaramente in un settore come questi si avverano. pensiamo al punto di ruolo rosso e a tante altre malattie che colpiscono dalle palme che hanno fino ornamentale ai prodotti sottoserra. Quindi sono momenti di crisi che avrebbero bisogno di maggiore sostegno a livello del credito. La difficoltà di accedere al credito da parte soprattutto delle giovani imprese, perché spesso i giovani ci provano ma si fermano di fronte a quel muro altissimo che è dato dal no, che spesso viene dato dalle banche. Ecco, in questo caso le istituzioni che cosa possono fare per aiutare quelle che sono le loro possibilità le giovani imprese o le imprese in difficoltà? Purtroppo possiamo fare ben poco, possiamo fare ben poco perché siamo vittime di una riduzione drastica dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione. Lei pensi che nella mia piccola provincia solo lo Stato quest'anno su una riduzione di 300 milioni a livello nazionale ci ha tolto ben 2 milioni e 700 mila euro? Quindi il nostro bilancio già in difficoltà con tagli di questo genere non può certamente pensare, oltre ad assicurare i servizi essenziali, anche un sostegno vero, pieno alle giovani imprese e alle imprese in generale. Quindi c'è bisogno di una presa di coscienza forte da parte dello Stato e da parte della Regione perché vengono aiutate queste attività e perché quindi i territori non muoiono sotto la scura del mancato credito, del mandato sostegno finanziario, ma possono avere quel minimo di provvedenza che possa mandarli avanti, possa farli sviluppare, possa farli crescere e possa quindi creare occupazione, perché questo è il vero dramma. Oggi la disoccupazione colpisce sempre di più i nostri territori, i giovani non hanno futuro, devono andare al nord o all'estero per trovare lavoro e quindi mentre soffriamo il dramma della immigrazione diventiamo territorio di emigrazione, di una migrazione di bella intelligenza, di belle energie che potrebbero costituire il futuro vero e concreto del nostro territorio e della nostra Sicilia. Forse questo Presidente dovrebbe essere l'obiettivo di tutta la politica, quello di far sì che le forze, che i giovani, che le intelligenze rimangano a casa propria. E' un dramma che noi viviamo comunque quotidianamente, specialmente chi sta in trincia come gli amministratori locali e quindi il mio è un appello veramente al Governo nazionale e regionale perché si trova il modo, si trovi la maniera di far sì che queste intelligenze restino a lavorare nel nostro territorio. Presidente, torniamo al mondo agricolo, fondamentale, importantissimo, la sua provincia e alla tutela, difesa delle tipicità. Ecco, le tipicità sono quei prodotti che vi fanno andare oltre i confini regionali, oltre i confini nazionali, vi fanno conoscere e fanno sì che il made in Italy, perché anche un prodotto agricolo tipico può essere made in Italy, possa in qualche modo funzionare. Ecco, che cosa si può fare per difendere sempre più questi prodotti? Ma intanto puntata sulla qualità, perché la qualità certamente, ma anche il biologico, diventa un modo per salvaguardare le tipicità che sono tante nel nostro territorio. Pensiamo ai prodotti DOP, quale il ragusano, quale l'olio extravergine dei Montiblei, ma anche ai vini. Noi abbiamo il Cerasuolo, che è una DOCG abbastanza importante, al pomodorino, e a tanti altri prodotti che sono anche tutt'alti dalla legge. Però dobbiamo lottare anche contro le sofisticazioni, contro prodotti che magari, a cura di operatori con proprio scupro, rivengono dall'estero a costi molto più ridotti e vengono fatti passare poi per prodotti nostri, per prodotti ciliani. Quindi dobbiamo promuovere il consumo, diciamo, di questi prodotti. Anche accorciando la filiera, oggi si vanno sempre più diffondendo i mercati contadini, che mettono a contatto direttamente il produttore e il consumatore. Quindi questa può essere la scelta giusta? Può essere una scelta, ma non è risolutiva, perché le grandi quantità chiaramente passano attraverso i mercati e là c'è bisogno di un controllo della filiera, c'è un controllo del prezzo dal produttore al consumatore, perché lei prende per esempio i pomodorini, vengono raccolti a Vittoria, vengono commercializzati, non so, a Cicli, in altre città della provincia, vengono poi mandati ai grandi mercati del nord e poi ritornano magari nelle grandi catene di distribuzione dei negozi a prezzi che sono ben al di sopra di quelli della produzione. Quindi c'è una filiera che poi alla fine porta a questi incrementi, laddove non ci sono anche delle infiltrazioni di altra natura, per cui bisogna proteggersi, bisogna persi da fare, perché l'agricoltore, il suo prodotto e il suo lavoro venga remunerato il giusto e il prodotto al consumatore arrivi con prezzi che possono essere anche concorrenziali. Presidente, quando si parla di turismo e si parla delle sue zone non si parla solo di una costa speciale, ma anche di percorsi enogastronomici importanti, tutto ciò che è turismo, possiamo dire di nuova generazione, anche se è una riscoperta del passato e delle tradizioni, voi ci puntate? Noi ci puntiamo molto, l'enogastronomia è uno dei punti di forza del nostro turismo, il turista che viene nella nostra provincia può fruire non solo delle splendide coste, delle splendide spiagge, non solo di una natura abbastanza particolare, non solo del nostro patrimonio culturale, ma anche di un'enogastronomia che affascina chi viene nella nostra provincia. Noi lo vediamo ogni giorno, veramente c'è un grande riscontro a questa presenza enogastronomica del nostro territorio e pensiamo che i prodotti di qualità, l'enogastronomia e l'insieme di quello che noi possiamo offrire sono un veicolo molto forte perché questo turismo si incrementa sempre di più. Noi puntiamo un turismo di qualità anche attraverso strutture particolari, adesso finalmente abbiamo nella nostra provincia anche due campi di golf, quindi strutture che attirano turismo di qualità, un porto turistico, quello di Marina di Ragusa, molto molto attrezzato e quindi questo turismo di qualità, ecco speriamo... Ammiccare anche al turismo estero, giusto Presidente? Sì, certo, turismo estero, turismo destagionalizzato perché noi abbiamo una stagione, diciamo che tranne qualche mese a gennaio, febbraio, marzo, poi dura in effetti circa nove mesi. Come gran parte della Sicilia, certo. Come gran parte della Sicilia, ecco, possa andare avanti in maniera più concreta e più forte. In un discorso di comprensori, oggi ormai il limite delle province... Bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, noi puntiamo molto sulla collaborazione nell'ambito del distretto del sud-est, devo dire che i risultati si cominciano a vedere e spero che possono essere sempre maggiori. Tra poco, dopo le notizie di CNR, continueremo a parlare della provincia di Ragusa, vi aspetto insieme al Presidente, l'On. Giovanni Francesco Antocci. Ci vediamo tra poco.